Ciao e bentornati in Final Fantasy. Allora, destinazione settimo cielo, storia principale, tanto che qua presumo che abbiamo completato tutto, o almeno, questo è quello che penso. Speriamo bene. Speriamo bene. Speriamo bene. Speriamo bene. Ma, però, dopo il lavoro è bello. Speriamo bene, in Slamo, in Slamo, come se ti fa? Speriamo bene. Mi sono anche un pozzo. Noi, non ti prendi sempre a Midgar? Speriamo bene. Speriamo lavorare e traciamo le persone. In effetti Ma ce ne sono ancora di incarichi almeno Mi sono fatto un giretto per la mappa Ma confermo che non c'è più nulla da fare In questa zona per cui andiamo avanti A cuore leggero Sì assolutamente Speriamo bene Unos comparto segreto Dica Non si fa così Bart però 7777 Chiaramente Vabbè Altro easter egg per la serie livello 7 Eccetera 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 Dammi da bere dai Così dimentichiamo Qualcosa di forte Wow che brava bartender Spera C'è un cosmo? Eh Canyon Cosmo Eh Claudio non viene giù Non viene giù E' brava Tifa combattere C'è ancora tempo dice Claudio Fra l'altro anche il tema del Pinball è quello di Final Fantasy Per vincere fraccette devi alzerare il tuo punteggio in meno turni possibile Puoi tirare tre volte per turno premendo X entro tempo limite La precisione del tiro aumenta quanto in più il reticolo di tiro e piccolo Colpendo il bersaglio al centro negli spazi doppio e triple ottieni più punti Ma ricorda che per vincere devi portare il tuo punteggio a zero Se fai troppi punti e finisci fuori il punteggio perdi il turno e torni al punteggio precedente Quando basta solo un tiro per vincere la zona da colpire sul bersaglio Viene evidenziata per agevolare il lancio decisivo Ok Ma è questo che devo fare io allora sì Male benissimo Semplice Bene più o meno Insomma Più che altro perché io cerco di compensare lo spostamento Ma dopo va dove cavolo vuole Perfetto sì vabbè perfetto cosa Perfetto che va lì però è sbagliato E vai più o meno Ah Uno Possiamo stare va Ah bene dai Ma dai che porcheria è questa Vabbè non importa lei Eh la fretta che ti devo consigliare Ah finalmente ogni tanto un bel tiro Ok Qua cosa possiamo fare Allora 20 magari 20 doppio tipo Qua dobbiamo fare un 20 più 18 Ho un 19 doppio Boom Bravo Cloud 60 per turno Vabbè dai non è male Ehi ce ne vuole qua Arrivare primo 8 fraccette Wedge Aspettiamo buoni buoni Vabbè Ok aspettiamo Sì aspettiamo Ti fa il bancone Ok Comunque è una stranezza questa Non sembra molto contenta Sì aspettiamo Non c'è Sì, come è finito. Si è finito? Si è finito? Si è finito. Sì, c'è qualcosa di... Ah, no. Mi piace, mi piace. E ora, l'avete finito. E allora, vado a prendere il pietro. E' solo per fare un'altra parte. Non provo, eh? Le prezegnze. Scusate ragazzi, solitamente taglio queste cose, ma durante le cazze non è possibile. Purtroppo mi sto ammalando, sì. Cloud non ti vogliono, che ti devo dire? Purtroppo mi sto ammalando, non ti vogliono, non ti vogliono, non ti vogliono, non ti vogliono. Non ti vogliono, non ti vogliono, non ti vogliono. I tuoi gatti, non fa una piega. Dov'è il prossimo obiettivo? Ombre minacciose. Purtroppo mi sto amando. Non ti voglio dire? Non ti voglio dire? Ah... Cloud il venduto. O perlomeno così pare. E questo? Possiamo aiutarlo, Cloud? No? La fa da solo, ok? Dai, ma questi qua si muovono perfettamente uguali. Ma che roba è? Guardateli! Modello identico, proprio. Vabbè. Brutile da vedere, eh. Sono tipo camminata sincronizzata. Ok. Secondo me questi qua li meniamo come dei cachi, eh. Però, boh, ha l'intuito, eh. Che cosi che non è possibile... Ho! O che cosi che sei voruto, eh? Bene, avevo voglia di combattere Ah, non riusciamo neanche a stremare, li cadono molto prima questi Ma vomita Uila Bene Uila Abbi peta Ok Meglio riposarsi un po' eh, dice Cloud Ok C'è Karina Bada, bada Mamma mia che bella che è C'è questo? Sì Sì, ma se non farlo ora, sarà più difficile Sì, è deciso che la parola è decisiva Sì 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 Ifrit Che goduria Sì Sì Ok Mi preparo bene, va bene Io che pagamento e materio Mamma mia, mamma mia, mamma mia Allora qua Ardente Via Energetica Questa qua la teniamo Glaciale, via Ifrit Ah, ma ce n'è solo una per le invocazioni Ah Ok Va bene E noi mettiamo Chiaactus Che è quello del preordine Così vediamo cosa viene fuori Sono pronto Jesse, andiamo Siamo pronti? No, in realtà Perché mi sono sbagliato Ho tolto Sì Sì, sì, sì Ok Ho sbagliato, devo mettere la materia che avevo tolto Perché nell'originale Le materie di invocazione andavano al posto delle materie normali Qua invece c'è proprio lo slot evocazione apposta Tant'è che non posso mettere Chiaactus e anche Ifrit O metto uno, o metto l'altro E che è Mi dispiace, vabbè, ok Energetica, va bene Poi mettiamo Ardente Ok E poi vitale Aggirante Autosoccorretrice Vitale, dai Meditativa Sono pronta, sono pronta, sono pronta Sì Perfetto Jesse Vediamo come funzionano le invocazioni qua Almeno la paga è buona Mamma mia Tutto fare esordiente Sfrecciando nella notte Non c'è Non c'è Non c'è ...è iniziato a dormire mentre hai una madre? Mi piacerebbe che stai guardando il mio mio padre... ...ma mia ragione! ...ma mia ragione! ... e... ... sguardo molto bene la mia gente, ma anche io sono i miei di un'amico di mia figlia di legge. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Cosa c'è? Dai A Spaffo Sì, i ragazzi! Sì, i ragazzi! Sì, i ragazzi! Hai sentito? Ah. Perchè il motivo è che i ricchi di ricchi, ma non è vero? Ecco, l'ultima il ritorno dell'ultima. C'era un'ultima vera che il ritorno dell'ultima. Hai detto che il ritorno dell'ultima vera? No, non è vero, Josh, non è colpa tua. Non è colpa tua. Ai, ai, ai. Segui dalla moto, che figata. Para. Wow. Che bello. Qui la arriva gentaglia? Benissimo. Vieni qua, vieni qua. Veloce. Tada. Perfetto. Morite? Bene. Vieni qua, vieni qua. Tu, tu. Perfetto. Qualcun altro? Ui là, piano, piano, piano. Ma gli faccio male se si vado contro, no, vero? Ok. No, non stiamo rallentando, non ti preoccupare. Oh, che figata. Bellissimo, porcaccia. Perfetto. Ok. Cavolo, questi qua sono coerazzati, eh. Fendente rotante, avete visto? Che bomba. Piano. Benissimo. Ui là, pure i droni? Piano, piano, piano. Purtroppo non riesco a raggiungerlo. Oh. E questo che è? Perciò? Perciò? Dai 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 Uila Cure? Infame? Dov'è? Chi è? Perfetto Bellissima sta parte comunque Hanno reinventato quella che c'era praticamente nel gioco originale Fantastica E vai Eh ma sono velocissimi quelli da porcaccia Quanti sono? Bene Ottimo Dai che ti raggiungo Perfetto Affortunatamente è eterno di quelli scarsi e non super robusti Ecco tipo questi Un'altra parte Quanti al momento è che il resto del gioco? Quanti al momento è che il gioco? Alla parte Quanti al momento è che il gioco? E' un gioco? Sì E' un gioco? Poi c'è girato Porca vacca Ma è nostro amico? No Decisamente no Ui da Bastardo Ah che cazzo fasso Stai ti distruggo Ah pure Vai dai Spettacolare sta parte comunque Roche Vabbè detto infamone Tieni Vieni vieni qua Fatti sotto Aia Battuto Ho vinto eh Basta Vittoria O Vittoria Non è così Non non ti credere L'argo Non ti credere Grazie a tutti. 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 Più o meno. Serata nel settore 7. Baldore nel settore 7. Chi penso io? Con un soldi a rispetto ad aprire le porte. Meravigliosa. Meravigliosa. Questa visuale. Casa dolce casa. Ah, il gatto. Ah, il gatto. Non credo. Quanto è questa mappa qua? Qua? No. No, comunque non mi pare ci sia. No, comunque non mi pare ci sia nulla, sapete? No. Qua nel parcheggio magari? No. Va bene. Perci l'obiettivo. Che dolce. Che dolce. Che dolce. Che dolce. Che dolce. e mi pare? Che dolce. Che dolce. Che dolce. Ah, devo rubare forse una tessera d'accesso tipo al padre Eccolo qua Forza Cloud Sti gatti che casino che fanno Ok, sarà fatto Piano Cloud No, poverino Pugno Pagnoi chiede di carri suilare Pagnoi che voglio scoprire le pezzi In un'osco Non sono nessuna Perciano Pagnoi Cloud Che cosa ci sono? L'altro papà Non c'è l'altro? No Non c'è la giusta? Non c'è la giusta? Non c'è Mi raccomando Cloud, catteggia No La leggo, assolutamente sì Ero a Gold Socer Sousa A Gold Socer Con top to top to top to touch S Barry Ma corrono se vi tanto dattanda ucchino data Eccolo C'è altro da controllare qua qualcosa di interessante della lore No, mi pare di no, sapete Va bene, allora andiamocene Poverino cavolo, mamma mia Andiamocene cloud, dai Welcome Ma la porta non la chiudi mica Boh, va bene E rimane aperta, ok Sta finta di niente, dai Missione compiuta Porta aperta a parte Non c'è 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 quel goloso qui 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 si qu'à non c Vissa è venuto solo? Sì, pensi che ti senti solo? Travi un'imprimensione di cloud. Ecco... Abbiamo avuto un'imprimensione di mamma, certo? C'è un'imprimensione... È un'imprimensione. C'è un'imprimensione! C'è un'imprimensione! C'è un'imprimensione? C'è un'imprimensione? Beh... E' un'imprimensione di fare l'imprimensione. Quando tu guardi gli uomini, hai un'imprimensione di noi, vorrei che il fatto bene? C'è, sì! VIX, come se si tratta. Se si tratta la sua scuola, tutti fanno la scuola di un'imprimensione. Si tratta la scuola di un'imprimensione. Sì, è un'imprimensione di diritto... Il tempo di attorno? Non credo che non si tratta. Non mi sembrava che non mi sembrava. Se avessero usare un'altra cosa, perciò che andiamo a un'altra parte. Ehi, come si è tornato a SILAM? Non si è tornato a la scuola? Non, non si è tornato a casa di oggi. Non c'è l'unità di pensare, ok. Allora, vediamo dopo. Allora, andiamo anche a un'attività di rio. c'è un figlio di Jesse, c'è l'infiltrazione nel magazzino? Aiaiaiai Bene, dialogo finito direi. Bene ragazzi, noi qui chiudiamo la puntata. Grazie, alla prossima. Grazie.